Svetelana, sono undici anni che tu vivi a Crotone, in questo momento particolare il tuo pensiero corre al tuo paese? Ma la forza per tutti i nostri paesani devono crederci in quello che vincono su quel diavolo che sta entrando. La preghiera questa sera serve? La preghiera serve, sì, ne facciamo. Ludmilla, un pensiero su questa guerra? È un pazzo scatenato, deve essere proprio eliminato, perché è un pericolo per tutto il mondo, non soltanto per noi. E l'unica cosa vi dico è appartamente, se non aiutate l'Ucraina, questo non si ferma la terra nostra, arriva fino a qui. Quindi il governo deve pensare, l'Europa deve pensare, il Nato deve vedere quale provvedimento prendere, se no passiamo il guaio. E ancora una cosa voglio dire, devono aiutare i profughi, devono aiutare i bambini con accompagnamento. Se avete possibilità prendete per un mese, per due, noi speriamo che questa cosa si finisce presto, però la speranza è more ultima. Aiutate i nostri bambini, noi cerchiamo di portare i bambini a casa nostra. Grazie.